Un appuntamento con la storia della città di Treviso, una città che oggi si presenta senza rete fognaria ma che comincia questo lungo processo di realizzazione della rete fognaria e della nuova rete acquedottistica. È con una punta d'orgoglio e di emozione che il sindaco Mario Conte, parlando di intervento, di portata storica per la città, ha dato il via al cantiere nel quartiere nord-ovest del centro storico per la realizzazione della nuova rete fognaria e la ristrutturazione della rete acquedottistica. Ad oggi la città è ancora priva di fognature, Conte è il primo a interessarsi del problema. Un investimento da 3,6 milioni di euro per 3,2 chilometri di rete fognaria e acquedotto. Partiamo ovviamente da questo quadrante di città con l'obiettivo nei prossimi quattro anni di sviluppare e arrivare a circa il 70% del centro storico realizzato e collegato al depuratore. L'opera servirà a una zona dove risiedono circa 1000 abitanti e dove sono presenti 5 istituti scolastici che potranno così allacciarsi al depuratore comunale. L'intervento si sviluppa nell'area compresa tra le mura e le vie Battisti, Cantarane e Pancera e prevede principalmente la separazione dell'attuale fognatura mista. Le condotte presenti verranno destinate alla sola fognatura meteorica e verranno posate nuove condotte per la fognatura nera. Le opere prevedono inoltre il rifacimento delle condotte dell'acqua. In termini di sostenibilità ambientale è forse l'opera più importante mai realizzata in città. Sicuramente questo è un primo passo importante verso la sostenibilità ambientale. Andremo ad allacciare 1000 utenti e 5 scuole. Come ha detto il sindaco questo è un cambio epocale perché le fognature misurano la civiltà di un paese. I lavori dureranno circa un anno e partiranno da Viale e dal Viano per poi spostarsi lungo le altre vie interessate dal progetto con limitazioni della circolazione stradale che cercheranno di impattare il meno possibile sulla viabilità locale. Iniziamo oggi per poi ultimare con l'inizio delle scuole la posa della rete fognaria lungo l'interno mura quindi nel retto degli attifici scolastici per poi andare in Borgo Cavour con la sospensione concordata con i commercianti dei mercatini domenicali quindi dare in modo da recare il meno disagio possibile per poi spostarci con cantieri mobili 50 metri di lunghezza nelle varie vie secondarie. Dopo questo primo stralcio il cantiere proseguirà in altre zone del centro storico a spiegarlo sempre il primo cittadino. Diciamo che per fine mandato il mio sogno sarebbe di aver completato tutta questa fascia qua lasciando indietro soltanto il cuore centrale della città che verrà fatto poi successivamente.